Inter è fatta per il colpo in attacco, è in arrivo in Italia. L'Inter piazza l'ennesimo colpo a parametro 0 targato Beppe Marotta. I nerazzurri hanno chiuso l'affare per Meditaremi che domani svolgerà già le visite mediche. Il centravanti iraniano da giugno sarà un nuovo giocatore dell'Inter e firmerà un biennale con opzione per il terzo anno. L'attaccante non ha rinnovato il contratto con il Porto e presto approderà in Serie A, grazie alla lungimiranza della dirigenza interista che ha anticipato tutti. Anche il Milan che nei mesi scorsi aveva sondato il terreno.L'attuale capolista del campionato sta già pensando alle mosse di mercato estive e sta per chiudere, sempre a parametro 0. Anche per Piotr Zilinski dal Napoli che ha già svolto le visite mediche nella mattina di lunedì. Due colpi di grande livello che rendono il calciomercato interista già un successo punto attaccante iraniano classe 92. Taremi è una prima punta dotato di grande struttura fisica e dall'esperienza internazionale. Bravo con entrambi i piedi, il suo pezzo forte è sicuramente il colpo di testa. Vede la porta con facilità e spesso riesce a uscire dal cilindro acrobazie di grandissima caratura. Dal 2020 veste la maglia del Porto con cui ha conquistato un campionato portoghese, due supercoppe, due coppe del Portogallo. Oltre al titolo di capo cannoniere del campionato per ben due volte. In quattro stagioni ha collezionato numerose presenze in Champions League che hanno elevato il suo status, oltre al mondiale con l'Iranda Capitano. Da quando veste la maglia del Porto ha totalizzato 86 reti e più di 50 assist. L'anno scorso ha vissuto la sua miglior stagione europea a livello realizzativo, collezionando 31 gol in tutte le competizioni. La sua prima esperienza in Europa è stata quella con il Rio Ave, prima del trasferimento al Porto. Adesso vivrà la prima esperienza in Italia ma con le sue caratteristiche l'adattamento potrà essere più rapido del previsto. Taremi da giugno sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Arriverà in un sistema già profondamente collaudato e rodato, ma la sua esperienza potrà giocare un ruolo determinante nelle rotazioni di Simone Inzaghi. Certamente la coppia Lautaro-Turam è quella titolare e difficilmente verrà stravolta, ma la presenza di Taremi potrà dare un'alternativa di altissimo livello. Soprattutto nei periodi di tanti impegni ravvicinati. Seppur al Porto giochi prettamente nel 4-2-3-1, nel 3-5-2 l'iraniano si inserisce perfettamente come attaccante di reparto con l'argentino o con il francese. Potrà assumere il ruolo di Edin Dzeko nella passata stagione. Quello di centravanti di esperienza, fondamentale nelle partite che contano.